Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Giochi con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo di nuovo insieme a Bamba Burger, l'applicazione che ci consente di creare gli hamburger più strani del mondo. Infatti abbiamo già creato insieme un paio di hamburger strani la scorsa volta e oggi ne faremo un altro. Quindi iniziamo subito, qui c'è il nostro menù che andremo a creare, vedete? E qui abbiamo un sacco di tipi diversi di hamburger tra cui scegliere. Un sacco di tipi diversi di pane, diciamo. Quindi possiamo veramente scegliere quello che vogliamo. Io oggi vorrei fare l'hamburger più dolce del mondo. Quindi per fare l'hamburger più dolce del mondo dovremo prendere qualcosa tipo questo tronchetto di Natale. Questo deve essere veramente dolcissimo. Quindi adesso si griglia l'hamburger che poi andrà messo all'interno di questo tronchetto di Natale che deve essere veramente dolcissimissimo. Quindi adesso andiamo a scegliere altri ingredienti altrettanto dolci come questa marmellata, poi mettiamo anche del cioccolato, mettiamo anche caramelle, lecca lecca. Questa, no, questa magari no. Cosa possiamo mettere ancora? Che sia dolce? Delle praline, così, di zucchero, di marshmallow, delle caramelline ancora. E poi questi bastoncini di Natale, anche i bastoncini natalizi, anche questo biscottino di panno in zenzero. Quindi io direi che può essere abbastanza dolce questo hamburger. Vediamo se ci ispira a qualcos'altro, però forse può bastare, direi, per quanto riguarda i dolci. Bene, quindi questo è il nostro hamburger zuccheratissimo, ma proprio zuccheratissimissimo. E adesso andiamo a riempire il nostro bicchiere per la bibita. Mettiamo la cioccolata, così, per non farci mancare nulla, per completare l'opera. La nostra opera zuccherosa. Il menù più dolce del mondo. Invece per le patatine, limitiamoci alle patatine normali. Quindi patatine, patatine, niente dolci, almeno per questo. E scegliamo questo formato. Quindi friggiamo i nostri spicchi di patate. Li mettiamo nella friggitrice e li friggiamo per bene. Almeno questi andranno magari a compensare la dolcezza del nostro menù. E abbiamo anche questo regalino, poi lo apriamo. Ah, prima di tutto dobbiamo pagare, quindi fanno, ok, 9 euro. Quindi andiamo a pagare. Mettiamo le monetine nella cassa. Perfetto, quindi abbiamo pagato. E adesso ci possiamo fiondare su questo menù dolcissimo. Ah, dolcissimo. Non fa bene né ai denti, né in generale. Non fa bene, però comunque sia, è il menù più dolce del mondo. Abbiamo anche aperto questo souvenir, questo regalino, che è un pappagallo. E bene, quindi avete visto, insomma, cosa si può creare con Bamba Burger. Possiamo creare veramente gli hamburger più strani del mondo, sbizzarrirci, come più ci piace. Nel frattempo ne abbiamo anche finito il nostro menù, abbiamo anche bevuto la cioccolata. E bene, quindi appunto abbiamo creato questo hamburger dolcissimo. E i tipi che si possono creare sono comunque infiniti. Spero che il video vi sia piaciuto, se è piaciuto condividetelo con i vostri amici. Io vi ringrazio e vi saluto alla prossima. Ciao!